Non c'è niente di romantico quando parliamo di tombaroli. Sono ladri. I traffici d'arte nel mondo ammontano un volume d'affari di circa 6 miliardi di euro. I carabinieri del TPC combattono contro un traffico di antichità che negli anni si è perfezionato ed è diventato internazionale. L'arte antica ci mostra da dove provengono i valori condivisi dall'umanità. I tombaroli sono degli assassini. Sono degli assassini del passato e della storia.